E la crisi colpisce tutti, anche noi musicisti e produttori. Voi sapete che nell'ambiente uno degli equalizzatori più usati in mix e in produzione è il Pro Q3 della FabFilter, che però sono 169, cazzo di euro, un po' tantino, è bellissimo. Oggi però ti dico quale alternativa gratuita puoi usare per avere tutte le funzioni del Pro Q3, quasi tutte, ne mancano proprio un paio, e anche alcune di più del Pro Q3, incredibile, ma soprattutto anche lo stesso suono, ossia un equalizzatore che lavori a fase, si dice, neutral phase, ossia quindi è a metà strada tra un equalizzatore digitale normale e un linear phase. In mezzo c'è sta roba del natural phase che si dice, replichi come funzionano gli equalizzatori analogici, è più che altro una roba matematica di cui ce ne fotte poco, però il plugin gratuito che ti mostro oggi ha questa cosa. E sto parlando dello ZL Equalizer, che è non solo open source ma anche molto molto gratuito, ed è disponibile per Windows, Mac e tutti. Basta scendere qua in Installation, andare a visitare questo link e troviamo l'ultima versione per Linux, Mac e Windows. Io la scaricherò per Windows, lo installiamo qua assieme per la prima volta, così vi faccio vedere che non è difficile. L'unico problema è che non è firmato, quindi, perché siccome ancora durante lo sviluppo non hanno fatto la firma di Windows, fate ulteriori informazioni, esegui comunque, uscirà la vostra installazione, ditegli se volete l'LV2, il VST3, la IX, lo stand alone, date il next e date install su Mac, non so come si faccia, mi immagino sia molto simile, molto facile. Una volta installato possiamo andare nella nostra DAW, fare un'aggiorna e andare ad aprirlo. Appena il mio computer si riprende, ok. ZL Equalizer, eccolo qua. Allora, innanzitutto, interfaccia ridimensionabile, quindi possiamo allargarcelo, stringerlo quanto vogliamo, ed è un equalizzatore a 16 bande, come massimo, di più, tanto non ce ne stanno sullo schermo, ti conviene aprirne due. Ti spiego tutte le sue funzioni, così questo qua diventa un mini masterclass. Se noi clicchiamo nella parte centrale dello spettro, andiamo ad attivare appunto l'equalizzatore, che è questo, e semplicemente trascinando il mouse possiamo andare a dare gain, abbiamo un massimo di più 12, un minimo di meno 12, e possiamo cambiare il fattore di qualità, il Q-Factor, con la rotella del mouse, molto molto comodo. Possiamo poi andare a cambiare questa campana, picche sulle campane, low shelf, appunto shelf sotto, low pass è un passabasso, e via dicendo. Ai shelf ci sono anche un notch, che è quello che buca fino a meno infinito, abbiamo poi un passabanda, molto comodo, e un tilt shelf, che ultimamente sto usando parecchio per quando voglio dare delle schiarite, magari faccio tipo così, o delle scurite, il tilt shelf è molto molto comodo. Shortcut più veloce, se fate doppio clic sotto i 20 Hz, genererà automaticamente un passalto, ok? E se lo fate invece qua in alto, genererà un passabasso, molto comodo, anche se non sbaglio fa uno shelf se siete tra i 50 e i 20, e se siete tra i 10 e i 20 fa un high shelf, quindi la differenza è che qui ti fa questo e qui ti fa questo, ok? Ha un algoritmo di anti-cramping, quindi suona un pochino più simile a quello che può essere uno shelf analogico, almeno più di altri che invece magari sono scritti meno bene. Cos'altro possiamo fare? Su ogni banda possiamo appunto andare a ascoltare soltanto la banda che stiamo lavorando, quindi ci farà un passabanda che ci fa ascoltare solo cosa stiamo equalizzando, possiamo poi bypassarla o cancellarla. Fino qui tutto a posto. Andiamo a vedere un po' le impostazioni generali. Nelle impostazioni generali c'è la tipologia di filtro. Il Transposed DF2 è appunto quello di cui parlavamo prima, un algoritmo in natural phase, molto molto simile a quello del ProQ3, quindi avrai lo stesso suono dei professionisti, è uguale. State Variable è un altro tipo di filtro che gira molto di più le fasi, ma lavora meglio ad alte pendenze, è fatto se stai facendo dei crossover. Loro l'hanno messo come opzione, ma il manuale stesso consiglia di stare sempre in Transposed. Sappi se puoi provare lo State Variable se stai facendo cose di questo tipo, quindi puoi cambiare la pendenza dei filtri, perché questo cambia il Q, ti dà la risonanza, per cambiare la pendenza è qua sotto in basso a sinistra. Se fai una roba del genere potrebbe suonare meglio in State Variable al posto che in Transposed. La questione di fasi è da provare, vedere cosa suona meglio nel tuo mix. Puoi attivare la modalità di Zero Latency, quando lo attivi il plugin diventa appunto a zero latenza, confermiamolo prima di dire puttanate, vedete che va a Zero Sample, quindi in questo caso se siete in fase di produzione e non volete avere latenza mentre suonate cose del genere potete mettere in Zero Latency, peggiora un po' la parte dinamica che vediamo dopo. Poi c'è Dynamic Link, ve lo spiego dopo quando facciamo la dinamica. Collisioni, questo qui è un detector di collisioni, anche questo qui lo vediamo dopo, però qui potete regolare quanto è sensibile. Nell'output avete un SGC e un AGC, è un modo di tenere lo stesso volume di ascolto della vostra traccia mentre ci lavori, cioè se tu hai una traccia ed hai una grossa schiarita si alza il volume, che non è desiderabile da un punto di vista per capire se stai facendo bene o male. Queste due funzioni ti danno la possibilità di compensare questi gain. L'SGC è una compensazione statica, ossia lui fa un conto matematico di come è fatto il tuo filtro e applica, che ne so, se tu hai fatto più 6 dB sopra i 5000 Hz, lui dice ok ti metto tutto a meno 3, quindi ti abbassa tutto di 3 in modo che il volume rimanga circa quello. Dico circa perché appunto è un'approssimazione matematica. Ma questo non tocca la dinamica del tuo file, quindi se stai ascoltando un file che ha molta dinamica e attivi questa modalità di compensazione, non avrai modifiche di dinamica, sentirai quello che succede veramente. L'AGC invece è proprio un confronto tra quello che entra e quello che esce e lui va a equipararlo e lo va a equipararlo di continuo, quindi tu mentre lavori lui continuamente controlla e ti tiene il segnale sempre lì. Questo però modificherà la dinamica del tuo segnale, quindi se lo lasci attivo ti comprimerà in tutti gli effetti, lo puoi usare un po' come compressore, un po' come leveler, te lo sconsiglio, non suona molto bene. Però è una di quelle cose da attivare mentre lavori, una volta che hai finito di lavorare, lo disattivi e stai sereno. Però se vuoi proprio essere preciso mentre lavori con l'equalizzatore su una traccia, con l'AGC acceso è molto più facile. Dinamica, sono vari tipi di dinamica, anche questo lo vediamo dopo. Analizzatore, potete scegliere come si comporta l'analizzatore interno. Carichiamo un file così ve lo faccio vedere, ve lo muto così non lo sentite, però questo qua è l'analizzatore di spettro, ok? E possiamo appunto cambiare se è pre, post, se vogliamo vedere soltanto il side, per vedere se ci sono delle basse di troppo nel side, possiamo se no frizzare il nostro spettro. Abbiamo qui una velocità, quindi molto veloce, molto lento, se vogliamo una risposta appunto lenta, oppure frozen, che è proprio quello che spiattella tutto. Di solito in medium è abbastanza comodo, non serve modificarlo. Questa qua è la pendenza, vedete che esce già preimpostato a meno 4.5, ossia i vostri mix mediamente saranno orizzontali su questo analizzatore di spettro. Molto molto comodo, altrimenti potete andare a zero e ha la solita forma. Ok, però io di solito lo uso a meno 4.5, che è molto simile a quello del Pro Q. In UI potete cambiare i colori, il refresh rate, il tipo di roba, se volete cambiare i colori potete farlo, insomma niente di particolare. Dopodiché, su ogni equalizzatore abbiamo appunto la frequenza, quindi abbiamo un raddoppio, possiamo trascinarlo o cambiarlo da qua, abbiamo il gain, abbiamo il Q, ok? E qui possiamo andare da un Q all'altro, ma è uguale. Se attiviamo questo squiggolino che c'è qua sotto, attiviamo la dinamica, come nel Pro Q3 abbiamo un compressore soltanto su questa banda, ok? Vedete che effettivamente sta comprimendo, sto dando gain e comprimendo. Abbiamo poi threshold, ok? Attacco, rilascio e knee, molto molto comodo. Possiamo anche fargli decidere a lui, ossia se attiviamo la A, la threshold sarà automatica. Ok, vedete che ogni volta che clicco lui darà una threshold, oppure posso tenere premuto e fargliela analizzare. Insomma, mi dà una threshold automatica se sono di corsa, però mediamente mi piace, potete modificare anche con la rotella del mouse i valori, andare a mano con la threshold, che è una roba che il Pro Q3 non ha. Questo ce l'ha, devo ammettere, mi sta piacendo rispetto a tutto l'auto magico del Pro Q3. Possiamo poi andare a sentire quello che è il sidechain, quindi sentire solo la banda che sta muovendo questo compressore, disattivarlo, attivarlo, attivare invece il sidechain in, lo vediamo dopo, oppure, ah questo non mi ricordo più che cazzo era, no, questo è il sidechain, questo è il sidechain, manuale, è il momento. External sidechain, ah questo è relativo automatico per la dinamica, e questo qua invece è, quindi S è sidechain e questo qua è relativo automatico. Onestamente questo qui lo uso poco, non mi dà tanto interesse. Sidechain, invece possiamo sidecenare, ve lo faccio vedere in un'altra sessione. Una delle cose comode è che possiamo o collegare o scollegare quello che è il sidechain della dinamica della banda. Faccio un esempio, se facciamo così, questo compressore andrà sempre a usare l'audio che c'è dentro il filtro per muovere il compressore. Possiamo scollegarlo, come si fa nel Pro MB e non si può fare nel Pro Q3, e ad esempio dire, ok, tutte le volte che, che ne so, batte il kick, quindi mi sposto qua, vedete che posso schiacciare la punta del kick solo quando le basse del kick stanno picchiando. O al contrario, magari posso dire, dammi più punta o dammi più brillantezza nel mix quando picchi al kick, ok? E questo è comodissimo. In qualsiasi momento, se premiamo di nuovo la catena, lui invece ce lo ricollegherà e quindi diventa un equalizzatore dinamico normale, diciamo normale così. Anche in questo caso possiamo, se lo slinchiamo, allargare o stringere la larghezza del detector. Questo è molto comodo per il Dessert, ad esempio. Noi possiamo andare sulle S, ma avere magari una campana molto molto più larga, ok? E andare a cercare le S con precisione, che magari sono un po' più in basso, ma vogliamo semplicemente scurirle, possiamo fare questo tipo di offset, che il Pro Q3 appunto non fa. Questo qua è gratuito, sì. Bellissimo. Visto che stiamo parlando di dinamica, parliamo di dinamica. Abbiamo Luca Head, è un modo per evitare un po' di pumping, quindi lui guarderà avanti nel tempo per vedere quando arrivano i picchi e si preparerà a riceverli. RMS, se lo alziamo, questi compressori diventano un pochino più morbidi. Smooth fa la stessa cosa. HQ diventa sample accurate, diventa più pesante sul vostro processore, ma sarà migliore la compressione. Serve sì e no, dipende quanto siete sclerati. Andiamo a prendere un altro esempio. Andiamo a lavorare con due tracce, ok? Così vediamo le funzioni di sidechain. Quindi abbiamo il nostro kick e il nostro basso. Solita roba, ok? Mettiamo uno ZL Equalizer, che ne so, sul basso e andiamo a fare un sidechain, ossia se vedete ha un ingresso di sidechain di ausiliaria ma andiamo il kick dentro l'ingresso 3-4 e il sidechain. Questo cosa ci permette di fare? Sul nostro suono di basso, ad esempio, possiamo andare a smagrirlo quando picchia il kick. Come facciamo? Facciamo una nuova bell, attiviamo la dinamica, attiviamo il sidechain e vediamo che ora sta prendendo il livello del kick che se sposto vedete che non fa più niente e ora possiamo appunto sidechainare solo questa zona ricordatevi che questo è quel detector quindi possiamo solo quando prendere la punta del kick o le basse del kick e possiamo vedere le collisioni vedete che ci fa vedere dove ci sono le collisioni più forti ovviamente se lo spegniamo non vediamo niente quando mettiamo il kick e il basso assieme lui ci dice che sta collidendo qua circa 100 Hz ok? Quindi andiamo a bucarlo ve lo faccio sentire, questo è senza questa è con abbiamo recuperato un po' di ciccia del kick ok? un esempio a caso non lo fate come se no poi dicono eh minchia quello là che cazzo dice ok? un esempio a caso stessa cosa ad esempio che possiamo fare quindi abbiamo attivato il sidechain e stiamo sidechainando il questo con questo possiamo fare il contrario possiamo fare altre robe però al momento ci piace così cosa manca? ah certo possiamo sentire lui che cosa sta pescando in general potete attivare il dynamic link che quindi di default vi darà sempre collegato il link di dinamica alle vostre campane se lo spegnete ok? quando create una campana e gli fate la dinamica di default sarà scollegato ok? questa è una semplice impostazione di preferenze le cose che vi consiglio di fare quali sono? se voi ripartite da a capo fatevi le impostazioni che volete tipo io voglio il dynamic link ok? zero lat off collisioni on output sgc on io preferisco la sgc e la gc è un pochino troppo violenta dinamica di solito do un filo di smooth un filo di rms ok? ma lo metto in hq perché ho un computer potente me lo posso permettere e l'analizzatore su medium mi va bene una volta che avete deciso il vostro standard diciamo così vi fate un nuovo preset come default questo lo chiamo def fra zl così tutte le volte che apro questo plugin non devo riconfigurarlo come voglio ma me lo trovo già ok? già come lo voglio già della dimensione tra l'altro che voglio così è un po' grande magari lo facciamo un pochino più piccolo e lo salvo come preset così quando lo riapro me lo ritrovo della dimensione che volevo ok? è tutto è gratuito suona bene e lo sto usando tantissimo ti faccio vedere ti faccio vedere un esempio perfetto un trick di quanto è potente sta roba andiamoci un file del meteo amici di radio number one ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo nella giornata di martedì si rinforza l'alta pressione sul amici di radio number one ben ritrovati ok quindi cosa facciamo un po' di pass alto amici di radio number one ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo nella giornata di martedì si rinforza l'alta pressione sulle poi cosa vogliamo magari vogliamo delle basse un pochino più solide quindi vado a dare gain ma attivo la dinamica ok? gli do una trisciola un pochino più bassa e lo schiaccio amici di radio number one ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo nella giornata di martedì si rinforza l'alta pressione sulle regioni di nord-ovest sono infatti i protagonisti eccetto qualche rovescio non escluso sui rilievi alpini nelle ore pomeridiane il caldo tornerà a farsi sentire sentite che da un pochino più di presenza qua sotto poi che ne so vogliamo dargli una schiarita amici di radio number one ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo però adesso le S danno fastidio no problem attivo la dinamica ok? abbasso il range amici di radio number one ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo nella giornata di martedì si rinforza l'alta pressione sulle regioni di nord-ovest sono infatti i protagonisti eccetto qualche rovescio non escluso e questo vi farà sia da schiaritore che da DeSser amici di radio number one poi magari che ne so diamo un po' di buco nelle medie amici di radio number one ben ritrovati ma adesso è troppo vuota quindi ridò dinamica dò una dinamica positiva amici di radio number one ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo nella giornata di martedì si rinforza l'alta pressione sulle regioni di nord-ovest sono infatti i protagonisti eccetto qualche rovescio non escluso sui rilievi alpini nelle ore sentite che è una voce molto più scolpita il caldo tornerà a farsi sentire con valori in aumento fino ai 34-35 gradi magari un po' esagerato questo high shelf ovviamente un'impostazione molto molto aggressiva l'unica cosa che non ha è un mix knob quindi una roba come il ProQ3 che in generale ti può andare col più e col meno amici di radio number one ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo però abbiamo ottenuto una roba un pochino più radiofonica ok? però per farvi capire un po' la potenza di questo affare un'altra cosa che potete fare ad esempio è metti caso che abbiamo una base noi possiamo mettere uno ZL Equalizer andare a fare un sidechain e andare magari a bucare la base ok? soltanto quando parla quindi nelle medie vado a dirgli sidechain quindi noi possiamo avere un po' l'ingresso dove non viene compresso e quando entra la voce si schiaccia e quando finirà di parlare per tutti i dettagli c'è il sito e l'app di Trebi Meteo torna sul volume ok? tutto gratis tutto bello ciò che è bello è ciò che a te piace e se non ti piace va a fare un gulo alternative vuoi spendere qualcosina di più c'è il tone booster EQ4 che è molto bello no no non l'UAD questo qui è molto bello fa robe molto simili per 29 euro perché non so non ti piace usare la roba gratuita perché sei stronzo questo qua l'Equalizer 4 analog model questo qua ha un pochino più c'è un pochino più di campane però diciamo che ha un prezzo molto inferiore a un Pro Q3 e fa praticamente le stesse cose non so se fa il sidechain però questa roba non la devo confermare non c'è il manuale read manual che stronzi sidechain supporta no sì ok lo fa ok sì no ce l'ha quindi questo qua è un'alternativa altrimenti sempre molto buono quello della l'ornet total Q anche lui circa lì siamo sempre sulla trentina di euro ok se non volete questo qua gratuito l'ornet total Q molto simile anche lui dinamica ah è vero scusate non abbiamo visto questo fa anche mid side metti che tutto questo cosa qua che ne so questo questo sidechain questo vogliamo dirgli fallo solo sul mid fallo solo sul side ok quindi in questo caso chiuderà il mid ma terrà lo stereo non molto utile in questo caso ma potete farlo il classico la roba è che ne so tolgo un pochino di side dallo stereo rendo tutto più mono ok però fa anche questo altrimenti signori tirate fuori 169 euro e compratevi il ProQ3 non rompetemi i coglioni ecco insomma come ho fatto io ok eh la crisi colpisce tutte anche eh la crisi cosa succede stamattina